Ciao ragazzi benvenuti benvenuti smegane, io sono Magnus, oggi siamo qui su X-men le origini Wolverine, Origins Wolverine, naturalmente come al solito vi invito come se ne metto tutto il zoom, per commento un bel mi piace, lo conoscete l'avete mai giocato? era un gioco che mi era sfuggito grazie ad ognuno di voi sono riuscito a prenderlo, il gioco uscì su ps3 xbox 360 e anche per wii per pc nel 2009 quindi parecchio tempo fa e personalmente non era niente male da quello che ho visto ecco perché oggi ve lo volevo proporre naturalmente c'è la mano di Activision all'epoca realizzava una marea di giochi allora vediamo se possiamo dedicarci un po di importazioni e poi possiamo anche partire ok normale e vediamo non so se sono già attivi i sottotitoli non so se sono troppo lontano allora vediamo se se uno pensa a tanti anni ah porca miseria questo che lavoravano bene a 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 mi sa che mi devo anche non c'erano i sottotitoli quindi pensa che non abbia parlato penso che ha fatto anche una parata perfetta a a a a a ok lancio alfagare e xfk penso che sia più una combo quella che facciamo a fare con questo devi alfagare ma se sembrano fantastiche questi imbecili ok si penso che entriamo ci siamo letteralmente che era buttato e buttati giù e poi non si è capito più niente io posso no vabbè ma non credo che abbia bisogno nuove abilità puoi metterti contro di me oh porca angela non avevo capito che sia puoi colpire vabbè ragno pensa che ci fa niente quello deve essere il mio elicottero ok vediamo che stanno facendo Vick e gli altri bene è ora di mettersi al lavoro usami per cambiare ma non vado ok il svari combat è molto semplice non facciamo tanto la schivata ma posso valare devo capire se poi per esempio c'è la possibilità di poter accrescere qualche cosa intanto ci stanno abbastanza fregando attenzione occhio la salute si è esaurita vuoi da anni che subito avevano un effetto devastante cerca di non subito stavamo morendo però vedo che qualche graffiato non è che c'è qualcosa che ci possiamo fregare per curarci in teoria penso che ha un po' la uncharted ovviamente c'è la fune ok dei fisicaccio che c'hai ok vabbè fa niente andiamo a farti un bel salto questo spalla pure da terra questo è scorretto ok e da qua oops addio mi sa che è fantastico questo gioco siamo saliti anche dall'altra parte siamo andati campione campione con macete questo campione con macete ok ok meno male non ho capito cosa mi abbia lanciato qua abbiamo fatto una grande palazzo ah ha aggiunto un nuovo livello ho aggiunto un nuovo livello prendo conto che il blocchiaggio forse manco c'era però inizia la lezione amico è scorretto mi piglia le spalle alla fine ma la fine quelle che ci rompono con le scate sono queste queste sono loro che attaccandoci schiattato? questo gioco è spettacolare allora penso di qua penso eh sì c'è anche il check point ah ti sbudellerò scusami ma scusami ma sono un po' tanti i dialoghi sono quindi che sono aspetta bella a trenino c'è un effetto spettacolare che è qualcosa di qualcosa di spettacolare non era più bassa sta cosa no? e poi mi metti in giù ti coltacolo ok togliti dai piedi amico poi ve l'ho detto non c'ho mai ma chi è? ma cosa cavolo è questa storia? ma non l'avevo mai visto mai mai becchiato un gioco del genere l'ambientazione è un po' comunque povera però non pensa che ci facciano entrare già da qua eh no allora la macchina eh oh attenzione che quello c'è c'è l'esplosivo allora allora ma che cos'era qua che domina? la piastrina 50-100 esperienza vedi allora ah vedi personaggio abilità artigli salute posso ok ok ne ho due che potrei mettere pure no posto non si può mettere una mazza mutagini ma è ancora tutto blocchiato non posso mettere niente nessuno slot riflessi penso che aumenta la capacità moste speciali massacrature ok non capisco perché non mi fai mettere dovrei averne costo a due ma non tengo a zero c'è ancora una mazza non c'è vabbè dove vado puoi spingere determinare perché dobbiamo spingere avanti ah per sfondare la porta non ti rimino se è così ebbè ci sta se non sfondavamo la porta non potevamo fare questo ingresso no allora facciamoci fuori un attimo a questi perché non abita artiglio devo stare attento ecco che non ho qua dove sta ok non faccio pure a questo sono colturo sto vedendo la mazza aspetta vedendo la mazza ci stiamo trasformando a questo penso che sia oh parca ok ok vediamo di pregaccio posso anche spingere grande che chi è chi è che sta ragazzi non mi fate incazzare ok ma sto basta anche il sistema di abilità è fantasma abilità ancora niente non posso ancora mettere niente qua dentro forse no niente qua penso ci arrampichiamo la scalata al muro allora no ok attenzione fatto fuori lo sento ma non lo vedo allora qua dietro si è rotto qualcosa quindi magari riesco a passare pure o magari riesco a prendere qualcosa per potenziarci e invece no manco per niente ah ma invece no mi raccolgo delle piastrine di qua ma se hanno deciso poi di basarsi su un gioco del genere comunque credo che tutti tutti intorno a questo no no ma che direi sempre di astrine qua dentro penso di sì qui è là hai trovato il modo di trovarsi il modo di trovare ah ok niente da fare madonna santa madonna santa questo si è salvato un'altra un'altra solo uno si è salvato si era salvato pensi di essere stato fortunato qui logan a rapporto ancora vivo dopo un incidente in elicottero perché la cosa non mi sorprende sono sul posto signore c'è anche il pilota ma è morto nessun segno del resto della squadra si sono paracadutati ma sono dispersi signore come sta victor tuo fratello sta bene c'è un tempo a nord raggiungilo lì poi piazzerete nella zona tutto il c4 che lui ha con sé ricevuto gos 4 1 chiudo scrivetevi sotto nei commenti se ci avete mai giocato perché sono curioso dovrebbe essere un gioco abbastanza famoso ci vediamo al prossimo video vai ciao